ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa stupitosa puntata di l'oletta 5 channel allora sono appena ragazzi andata di nuovo in fumetteria per la seconda volta in questo periodo molto foglietto di gobba nerd e ho comprato le pedine del gioco dungeons and dragons da colorare queste della bellezza di 6 euro ciascuno ci siamo normalmente per fare un set decente ci vuole un human ranger una wizard e un palatino cioè un elfo una maga una strega e un cavaliere in ogni confezione ne trovate due che praticamente sempre lo stesso personaggio in posizioni diverse questo è l'umano se riuscite a vedere tutto mi vedo io ok l'umano la strega e il cavaliere e questi sono proprio quelli uguali cioè uguali sono quelli originali di dungeons and dragons di cui due questi due lo comprati io mi pare sì questi vero come dio e questo mai calato un mio amico che ti saluto seguendo questo video ti ringrazio tanto non vedo l'ora di giocarci e niente quindi andiamo con lo lo sconfezionamento così finalmente posso giocarci in maniera ufficiale due set che carini vi dico che sono completamente in odore e qua abbiamo la strega che fa le magie non so ragazzi si sta mettendo a fuoco e le con libro magico che fuori ci escono varie cosine perché adesso non metteremo forse vanno incollate può darsi vabbè anche così stanno e sono due poi apriamo l'elfo anche questi ragazzi in odore abbiamo l'elfo normale è l'elfo che sfoda per le sue spade rispettivi così e abbiamo l'ultimo che è quello che mi piace di più che praticamente il cavaliere momento siamo riusciti ormai che compravo le cose originali ragazzi quindi in totale questo gioco mi sta costando la bellezza di 36 euro 310 euro cavolo dico 30 40 euro ecco e poi dolcesi in fondo il cavaliere cavaliere versione normale e cavaliere spadecino e ovviamente io così ho in realtà sembra lo stesso personaggio ma chi se ne frega 1 2 3 4 5 e 6 così facendo io ho completato tutta quanta la collezione delle pietine di dungeons and dragons come vedete me li giro tutti e così facendo possono giocarci la bellezza di sei persone quindi sei personaggi ci possono giocare più ovviamente il dual master ora dei che sono belli ragazzi troppo belli troppo fighi e poi ovviamente che sono un amante della lettura non poteva mancare fumetti nuovi ho comprato questo topolino del 2015 ragazzi a solo un euro un euro cioè top e poi ho preso il nuovo amazing spider-man 5 euro costa del 30 gennaio del 2020 questo è l'unico spider-man più recente che c'era come vedete l'amichevole Mary Jane di quartiere appena l'ho visto ragazzi lo devo pigliare e nulla con roba nerd di compramento vario per ora veramente posso dire che la possiamo la finiamo qua prossimamente raga manca il funk pop di sheldon che quello non vedo l'ora di comprarlo ma i miei dei gianni non c'era e quindi mi sa che tocca prenderlo su internet niente vi saluto va bene così e vi auguro una buona giornata